in un paese ma la comune si sta adesso sono stato a San Giovanni e tu mi hai detto che era così così Gabriele Gardino e te l'ho tornato a Giuliano e mi ha venuto qua e ci ha detto che era così così ma sono il Consigliere oppure qualche Consigliere ha parlato con voi? no no, con cui ti hai parlato sono il Consigliere e quindi hai fatto dei lavori ma hai avuto per me siderizzi per fare lavori? no nessuna cosa? come hanno detto? no, non lavori le porte ci mancavano e ce le insegno ma dove facevi queste porte? le hanno messo senza porte io sapevano che le porte le avevano bruciate oh, che lo sapevano? ci passavano dei cani ma chi lo sapevano? tutti quanti lo sapevano tutti quanti chi? ma anche il Comune, la società lo sapevano che i cani mi muorevano quando avevano 800 mi muorevano qui ma non avevano contattato su una carta no, per dire la società è vista no, però ce le hai fatte bene la carta però il permesso prevede proprio orale deve essere dato dall'amministrazione io ce l'hai detto c'è anche nelle finestre le porte e le porte mi piaceva ma basta che la buona ma tu hai fatto pure coltivazione no, no che guarda si ci sono altre proprietà e altre cose che ci sono pronti a prendere a capo no, Giovanni Sardino ma te l'hanno avvisato che qui non era un solo pubblico espropriato che non potevate venire qua nessuno ha detto niente andate basta e tu hai chiesto qualcosa per scritto no, ma hanno detto che non potevano niente ma hai detto le carte non erano l'arma ma hai detto c'è anche un cane c'è anche le cartelline no, dopo ci hai portato ma io ce ne aggiungo c'è anche una cosa esatto, così come hanno fatto gli altri e quindi come diceva Fredo nel momento in cui tu sai benissimo che qui è un solo comunale si, si vedi a me caccio nel momento in cui ti togono che succede? tu vuoi pagare le spese? no, perché la finestra ci hai messo le porte ci hai messo le spese che hai fatto quando sono? 3500 a noi ci hai messo almeno 2000 euro ma un sacco di danni le spese che fai di finestra altrimenti non te ne vai se non ti dà dei soldi non me ne vai se non ti dà dei soldi non me ne vai no, se non mi caccio le cose mi caccio le porte e le finestre mi caccio qui che c'è